Era arrivato anche qui il vento della rivolta primaverile a Manama, capitale del piccolo regno, piazza della Perla come la Kairota, piazza Tahrir, con la popolazione che in vano, in nome del Corano, ha chiesto riforme. Violenta la repressione degli al-Khalifa, la dinastia del Bahrain, decine i morti, centinaia i feriti, migliaia gli arresti, medici e infermiere accorgono in ospedale i dimostranti colpiti dai soldati del re, aiutati da truppe saudite arrivate a dare manforte. Oggi la resa dei conti, pene dai 5 ai 15 anni per 20 traduttori e infermiere, condannati, dice la sentenza, per aver occupato e abusato delle strutture dell'ospedale, aver diffuso false notizie con finalità terroristiche, in altre parole, colpevoli di aver fatto il loro dovere, di aver curato, salvato, prestato cure medica e dimostranti scesi in piazza contro il regime, per aver mostrato le prove, aver parlato con i media stranieri, per aver pianto le vittime. Nessuno è sopra la legge di care il governo, i medici e le infermiere hanno usato l'ospedale per fini politici, una sentenza sciocco, una vergogna, travestita da giustizia, protesta all'ONU, e protestano anche le donne, in prima fila, ieri in Yemen, oggi in Bahrain, che a migliaia hanno gridato, come si legge in questo striscione, io amo questa nazione, ma dico no all'ingiustizia. In piazza, come Ayata, 19 anni, che a marzo a Manama, declamò una poesia contro il governo, liberata dopo tre mesi di carcere, torture e soprattutto pubbliche scuse in tv.